Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Formigoni è stato un ottimo presidente di regione, un suo rientro in politica alle europee credo sarebbe un arricchimento per tutti. Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia. Siccome lei farebbe in tempo per le europee, chiudendo anche tutta la parte giudiziaria della sua vita, lei per oggi ha smontato un po' l'entusiasmo. Conferma che non cederà alla sirena di Attilio Fontana e di altri? Innanzitutto ringrazio Attilio Fontana e i tanti, tantissimi che mi hanno espresso in questi giorni la loro amicizia, la loro vicinanza. E anche i tantissimi che in queste settimane sono andati in giro a raccontare Formigoni deve rientrare in politica, assolutamente deve dare un contributo. Sono venuti a dirmelo, è chiaro che fa piacere sentire queste parole. Io però ho risposto a tutti che per il momento non ci penso. Per il momento non ci penso. Ecco, mi interessa molto il per il momento, perché Luca Sarpino ricordava in apertura di questa nostra chiacchierata che lei potrebbe dall'europea candidarsi il fine della pena, una condanna definitiva per corruzione, è fissato a marzo 2024, però la data potrebbe essere anticipata in caso in cui ci fosse buona condotta e ci fossero ulteriori meccanismi premiali in atto. Per il momento significa che lei lo esclude per questa tornata di elezioni europee, ma che in futuro non esclude di candidarsi. Non è semplicemente che sta aspettando il fine pena, perché magari... Io da una parte appunto desidero comportarmi in maniera irrepressibile, come ho fatto in tutto questo periodo, quindi non sono più detenuto neanche domiciliarmente, ma sto svolgendo i servizi sociali. Mi è sempre stata riconosciuta la buona condotta, anzi direi l'ottima, perché non mi è stato mai fatto nessun rilievo, ma il termine in cui finirà il tutto sarà in autunno. Quindi preferisco vivere il momento, tenendomi alle attività che sto svolgendo. Certamente questi amici mi costringono... Quindi scusi Presidente, se ho capito bene, noi rifissiamo questa intervista per ottobre, più o meno. Perché? Perché no? D'accordo, per ottobre. Tra ottobre e novembre potrei darvi una risposta diversa, voglio dire. Ma innanzitutto le europee sono previste per fine maggio dell'anno 21, quindi manca ancora più di un anno. E non sto pensando a quello, sto pensando ad altro. L'insistenza degli amici mi ha messo una pulce nell'orecchio, mi costringe a pensare a questa possibilità. Ma per il momento le mie risposte no, non intendo candidare. Ad altro cosa significa Formigoni ad altro? Beh, in questo momento, per esempio, sto lavorando, perché come lei sa, la mia pensione... Mi sono stati sequestrati tutti i beni. E a differenza di Matteo Messina Denaro, di cui parlavate prima, non ho messo via mai nulla. Quindi tutto ciò che avevo mi è stato sequestrato. La pensione a cui ho diritto come parlamentare e come Presidente di Regione Lombardia mi è stata fortemente decurtata. Quindi ho dovuto cercarmi un'attività dei lavoretti per integrare il mio reddito. E in questo momento ho trovato finalmente la possibilità di un lavoro di consulenza presso un paio di aziende che mi permette appunto di integrare col lavoro il mio reddito. Inoltre ho evidentemente proseguito a coltivare la mia passione politica, perché della politica sono sempre stato appassionato e continuo ad esserlo. Quindi leggo molto, studio, scrivo... E parla anche al telefono, immagino. Sì, certamente, anche al telefono. E chi l'ha chiamata? Facciamo sì, lei siccome magari non vuole esporci troppo, lei muova il capo e basta. L'ha chiamata qualcuno di Fratelli d'Italia per chiederle la disponibilità a una candidatura all'europea che lei... No, nessuno. Lega? No, nessuno. Questa è stata una notizia non vera diffusa da un quotidiano nazionale molto importante, Repubblica, diciamo il nome. Non c'è niente che ha scritto che in un pranzo fatto con l'onorevole La Russa specificavano addirittura il nome del ristorante. In questo pranzo avevo concordato, avevamo concordato tra La Russa e me, una mia partecipazione alle elezioni regionali dell'anno 21. Questo non è assolutamente vero. Con La Russa ho un rapporto di vecchissima data, ci sentiamo al telefono, parliamo, ci siamo incontrati, ma non abbiamo mai parlato di elezioni europee. Ne io ho chiesto alla Russa e quindi al suo partito di essere candidato. Nella Russa mi ha avanzato questa proposta e neanche altri partiti. Ripeto, questo Quotidia Repubblica ha scritto questa notizia non corrispondente a verità, altri giornali l'hanno ripresa, ho fatto un'intervista... Scusi, lei a che partito si sente più vicino in questo momento? Ma io ho sempre militato nel centro-destra, dopo aver appartenuto alla democrazia cristiana con varie traversie, avendo fondato un partito, non so se ve lo ricordate ancora, il CDU, i Cristiani Democratici Uniti, essere stato eletto Presidente di Regione Lombardia nell'alleanza tra Forza Italia, Alleanza Nazionale e il CDU, ho fatto per 18 anni Presidente di Regione Lombardia, passando dal CDU a Forza Italia. Quindi certamente Forza Italia, il Partito Popolare Europeo a cui Forza Italia appartiene, io sono popolare, sono stato democristiano, oggi mi sento popolare, quindi certamente mi sento vicino a Forza Italia, anche se sono critico nei confronti di alcune scelte che Forza Italia ha fatto in questo ultimo periodo. Mi sento critico nel contempo... Quali scelte nello specifico, Presidente? Beh, insomma, quando Forza Italia si è messa a fare il bastian contrario rispetto dopo la sconfitta nettissima subita delle elezioni politiche, non è che Forza Italia abbia visto con gioia l'ascesa di una donna, per di più di una donna, proveniente da fratelli d'Italia, alla carica più importante dello Stato. E ci sono stati dei movimenti di resistenza che non mi sono piaciuti. Non di Silvio Berlusconi in persona, no? Non mi starà mica dicendo questo. No, della sua segretaria preferita, della sua segretaria più forte e di altri. Cioè di Liciaron Zulli sta parlando di Liciaron Zulli. E anche di altri. La senatrice di Liciaron Zulli. Nello stesso... Ecco, però, proseguendo l'analisi dei partiti, voglio dire, certamente Forza Italia fa parte della mia storia politica, ma devo dire che ho apprezzato molto e sto apprezzando molto l'azione di Giorgia Meloni. Mi sembra una donna dotata di carattere e nello stesso tempo molto consapevole di dover essere un punto di unità e non di divisione per il Paese. E anche in Europa sta assumendo, ha cominciato una politica non più di contrapposizione dura, come aveva fatto quando era l'opposizione, ma una volontà di collaborazione. Queste sono le doti che un vero capo di governo dovrebbe avere. Mi sembra che Giorgia Meloni stia dando un'ottima prova di sé.